È la competizione internazionale di ciclismo femminile più importante al mondo. E pensare che ben due delle sue dieci tappe si svolgeranno in Valtellina mette in luce caratteristiche morfologiche da fare invidia a tutto lo stivale. Il Giro Rosa questa mattina ha svelato ufficialmente le sue carte, mettendo nero su bianco i due itinerari, definiti la chiave di volta della 29esima edizione, dedicata alle due ruote, che toccheranno proprio la nostra provincia. Mercoledì 11 luglio, il primo step in Valtellina. La carovana partirà da Sovico per raggiungere il traguardo di Gerola Alta. 114 chilometri per un dislivello di 800 metri, un antipasto di quella che sarà la tappa più sudata, la cronosalita lanzada a Diga di Campomoro. Un percorso durissimo, mille metri di dislivello racchiusi in una quindicina di chilometri. Sarà qui che le cicliste si giocheranno il tutto per tutto per la vittoria finale. Non detto da me, ma dal tecnico della Nazionale di Ciclismo Femminile, l'ordine d'arrivo, almeno per le prime 3-4 posizioni, sarà poi lo stesso di Isbruck. Ai nastri di partenza, i volti noti dal ciclismo femminile su strada, tra gli altri, quelli di Anna van der Breggen, vincentrice lo scorso febbraio della Strade Bianche. E mentre per l'Atlete sarà battaglia vera, per la Valtellina sarà invece l'occasione ideale per portare sotto i riflettori due nuovi percorsi, pronti a diventare popolari quanto Stelvio, Gavia e Mortirolo. Devo dire che quando sono andato a vederli l'anno scorso con gli organizzatori sono rimasto affascinato anch'io. L'arrivo in Valgerola è veramente stupendo, in uno scenario di montagna unico, ma non di meno l'arrivo a Campomoro sotto le dighe dell'Enel. Io, che provengo dal mondo del turismo, tendo a valorizzare più il territorio che quello che è il gesto atletico, ma sicuramente saranno due tappe che sono le uniche, sono due tappe di cui il giro fa molto affidamento perché qui ci sarà uno scossone per quello che sarà la classifica finale.